La cronaca amministrativa non opere irrealizzabili ma progetti concreti immediatamente cantierabili. Sono le previsioni contenute nel piano triennale delle opere pubbliche di Barletta illustrate dall'assessore ai lavori pubblici Marina Di Matteo. Assessore, il piano triennale delle opere pubbliche cosa prevede di diverso rispetto al passato? La cosa su cui abbiamo puntato è la effettiva eseguibilità e quindi cantierizzazione degli interventi per cui sono stati portati nella prima fase quindi nel 2016 tutte quelle opere per cui la fase progettuale era abbastanza avanzata e dettagliata in modo tale da poter rendere possibile nell'ambito della fine dell'anno l'effettiva cantierizzazione e rendicontazione. Mentre per tutte quelle opere per cui i progetti non erano effettivamente in uno stadio avanzato si è pensato di rimandarli negli anni successivi che poi sono 2017 e 2018 quindi sempre nell'ambito del triennio quindi questo sostanzialmente è l'indirizzo dell'amministrazione ma anche politico in quanto segue le stesse linee di mandato dell'amministrazione. In altre parole si cerca di evitare un libro dei sogni ma qualcosa di realmente concreto. Quindi diciamo effettivamente è il pragmatismo che genera questo tipo di linea di indirizzo. Infatti come dicevo tutti questi interventi che non hanno un dettaglio tale da garantirci l'effettiva realizzazione sono stati insomma scalati negli anni successivi. Se dovesse indicare un'opera importante di quelle ricomprese nel piano immediatamente cantierabile? Beh diciamo a norma di legge insomma come le priorità sono essenzialmente le opere di manutenzioni. In seconda fase il completamento delle opere già iniziate e in terza fase le opere nuove per cui effettivamente la precedenza tra virgolette quindi la priorità è data alle opere di manutenzioni e non solo manutenzioni di strade, immobili comunali, verde pubblico, illuminazione ma anche edifici per lo più edifici scolastici dove anche attraverso un sopralluogo che ho fatto personalmente ho visto la necessità di interventi prioritari addirittura alcuni di somma urgenza per cui ho già avviato la procedura.